Conto alla rovescia al manzoni di Pistoia per la prima nazionale dell'impresario delle smirne. La commedia di Carlo Gorloni, in cartellone dal primo al 3 marzo, sarà messa in scena per la regia di Roberto Valerio. L'attore, conosciuto dal pubblico pistoiese per il vantone di Pasolini, ha voluto accanto a sé parte di quel precedente casta Nicola Rignanese, Massimo Grigò e Roberta Mattei. Con loro Valentina Sperlì, Antonio Iuorio, Federica Berna, Pierluigi Cicchetti e Peter Vejel. La commedia è uno spaccato del mondo del teatro che racconta in qualche modo se stesso. Il protagonista è una compagnia di attori che sogna di potersi esibire in una tournée teatrale dalla quale tornare ricchi e famosi. Racconta naturalmente la condizione dei teatranti che poi non è così cambiata, dal 700 all'800, oggi. Sono comunque sempre operatori precari, questa è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale che cambia rispetto al 700 è che questa cosa della precarietà oggi appartiene a tutti, non soltanto agli attori. E quindi è una situazione di persone che sono sempre alla ricerca di lavoro, sono sempre alla ricerca di un sogno, di un'illusione, della possibilità di realizzare i loro sogni. E appunto in questo spettacolo, in questo testo, all'improvviso si apre per questa compagnia di poveri attori disgraziati, si apre l'illusione di vivere un grande sogno, di andare alle smirne, di diventare tutti ricchi, di diventare tutti famosi. Naturalmente, come sempre, come accade anche nella vita reale, non soltanto nelle cose teatrali, nel mondo teatrale, spesso le illusioni di diventare tutti ricchi, tutte le promesse, spesso non vengono mantenute e finiscono male. E quindi anche in questo caso, naturalmente, questa illusione alla fine scompare, però c'è, alla fine, l'idea da parte di questi attori di mettersi insieme, di creare loro una compagnia, una di quelle compagnie percentuali, per cui, come dire, decidono di mettersi in gioco loro in prima persona e di rischiare, di diventare loro una compagnia rischiando loro stessi, che forse è uno dei modi oggi, appunto, per riuscire a fare ancora spettacoli in questo periodo di crisi, naturalmente attanaglia soprattutto il mondo artistico, ed è anche per questo, quest'idea, mi piaceva, voglio dire, fare questo testo per questo motivo.